Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gino Gamerino Ragazzi, eccoci qui di nuovo su Farming Simulator 22 Sulla nostra fantastica mappa Italian Rise Ragazzi, non darei le notifiche lì in basso a destra Insomma, perché sono cose che dovrei togliere Ecco, si tolgo da sole, perfetto Allora, signori, siamo qui di nuovo Ok, dopo aver messo il pollaio per le galline Ovviamente il pollaio non può essere per le vacche E l'unica cosa che Mi sono scordato l'altro gameplay Che noi, poracce, abbiamo comprato due mucche, no? E stanno lì, purelle Così, senza cibo, senza nulla Non c'hanno un cazzo, purelle Allora, noi queste dovremmo mettere un po' di cibo Ora il problema è Dovremo fare la razione mista, cavoli vari Ma io, signori, per ora non c'ho nulla Che che gli metta queste? Per ora io direi di Eventualmente andare Se riusciamo Si possono venderle le mucche? Penso che sì, no? In qualche modo Se io Queste due mucche che io c'ho, no? Ma non le posso vendere? Andiamo un po' Vendi, sì, sì Porelle, vendiamole dai Perché se no ci muoiono A me di far morire le vacche Sinceramente non mi va a ponerle Dai Non possiamo fare questo alle vacche Signori, dai Allora Cosa dobbiamo fare noi oggi, ragazzi? Intanto dobbiamo prenderci un Un cassone da carico Perché la paglia che noi abbiamo in quel campo lì Vedete? La vorrei raccogliere Ok? Non voglio lasciarla, insomma Ma mostri i cassone Se andiamo a mettere Ah Non voglio lasciarla lì Ok? Quindi andiamo a posare sto cassone Eventualmente giriamo di qua E lo portiamo dietro l'altro Cavano Oh Abbiamo investito il signore Vabbè Non fa nulla Ce ne sarà una di meno Dai Che ci frega Andiamo a mettere sto cassone Da qualche parte Ok Dove lo andiamo a mettere? Tra l'altro Ma io posso passare di qua Oddio Oddio Sì, sì, sì Si fa fa Si fa fa Allora Andiamola a mettere Madonna mia Allora Sono grandi sti capannoni Però sinceramente Tutto sto spazio Non è Interno diciamo No C'è sto capannone qua Dove stava prima il cassone Tra l'altro Quindi andremo a mettere qua Ok? Andiamo a vedere Ok Andiamo a posare qui Vediamo se ce la facciamo Ok Certo Non so Sì Quando fanno così? Ok Dai Ok E lo andiamo a posare qui E questo rimane qua Ok In modo che Io voglio andare adesso Al negozio Ovviamente Perché mi voglio andare a prendere Il cassone da carico Allora Qui intanto andiamo a sinistra Andiamo insieme ragazzi A prenderci questo bel cassone Che poi compreremo Allora Vediamo un attino La direzione è questa Sì 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 Tanto è questa E Andiamo a raccogliere quella paglia Ragazzi E meno quella Eventualmente per le mucche Ci servirà Quindi dovremo andarla a prendere Non è che Oddio mio Guarda avanti Guarda avanti Gino Eh Se guardi indietro Qui fammo più botti che botti E andiamo a prendere Questo buon cassone Ok Dopodiché ragazzi Dovremmo mandare avanti Il tempo Per andare A trebbiare Quello che Diciamo Le nostre culture Ok È giusto pure Andarle a raccogliere Vediamo i mesi In cui potremo farlo Quindi Ci sarà da aspettare Qui nel frattempo Io investo persone A go go Ma non c'è problema Ma comunque strade strette Qua impressionante O bello Che ti pare Ma Strette Fortuna non c'è traffico All'interno della città Oh madonna Cioè Vorrei sapere Che cosa ho preso io Ora Cioè Buh Capisco lo scalino Qua Insomma Dai su Se fa così No Eh Il nostro Gino contadino Qui Uh Ma se ho Una parte giusta Buh Sì 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 Guarda Ah gira la gira la gira La Qui non sta attenti Che c'è il traffico Però a noi non ce ne può fregar di meno Perché il nostro Gino È così Allora 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 Andiamo al negozietto E colla Dice Autovelox Ciao Non credo funzioni Anche che sono le multe A parte stiamo a 53 Allora Non è che Ok Andiamo di qua Gira Madonna Ci siamo cappottati Ci siamo cappottati Cos'è successo qui Madonna Ci siamo proprio rigirati No 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 Qui spacchiamo tutti i mezzi Noi Gino però Un po' più Dai Un po' più serio Gino Eh Casino se Gino Allora Fermiamoci qua Allora Dobbiamo Comprare Ok L'hanno fatta Un cassone da carico Allora Raccogli grano Non ci interessa Carelli Sarà qua Boh Vediamo eh Allora Mi interessa proprio Il cassone da carico Questi Il cassone di morti Siamo per trasportare Non mi prega Un cazzo Siamo per trasportare Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' No Ditemi Io non so se è quello giusto Qui Madonna 90.000 Ma che cazzo è No forse non è qui Però Aspettiamo eh Mi serve Ecco qua Cassone da carico Giustamente Insomma Allora Abbiamo Questi piccolini Questi pic Parti Madonna Ma c'abbiamo 19.000 Quella roba lì Potremmo anche Prendere un prestito Sti cavoli Cioè Ma ammazza Quanto costano Marema Senti Ma questo piccolino Qui 6 23 metri Cubi Questo è ancora più piccolo Vabbè questo è leggermente più grande Voglio dire no Ma io andrei a prendere questo qua Dai Non è immenso Però insomma Però prima dobbiamo andare in banca Ragazzi Dobbiamo fare un salto in banca E dirgli ragazzi Datevi un po' di sordi Ok Chiedi Andiamo a prendere un Arriviamo a 100.000 Così un po' ce l'abbiamo Dai E almeno ce l'abbiamo Ci teniamo Allora Abbiamo detto Abbiamo detto Che dobbiamo andare Ecco Già mi sono persi I cassoni da carico Abbiamo detto Prendiamo questo qui Dai Ok Vediamo se tante volte Creazione ruote Non ci interessa Standard Solo queste Serbatoio Additi per Insilato Ah perché volendo Anche serbatoio Insilato C'è bene cazzo Target sta bene così Marche come così Ok ragazzi Compriamolo Così abbiamo Una stoccazione da carico Ok Lo andiamo subito a prendere Così Madonna Sembra piccolo piccolo Ma in realtà insomma Non è proprio piccolo piccolo Eh No Vabbè che vabbè però Ok L'abbiamo preso Andiamo dai Torniamo Al Campo della paglia Con il nostro cassone Così almeno Possiamo raccogliere Quella paglia Non voglio buttarla Insomma Può essere sempre utile Credo No Sia per le vacche Eventualmente la vendiamo Cazzo ci frega Eh La prendiamo La prendiamo col cassone Potevamo prendere anche L'imballatrice Che faceva Le balle Oddio Abbiamo ammazzato il cervo Cosoli Vabbè dai Ce ne faremo una ragione Allora andiamo di qua Oh dove vai Bravo Bravo Gino Dai Qui tagliamo Che tanto spazio ci sta Questi cavoli Qui occhio Gino Che qui Qui facciamo i danni Ecco fatto No Mi si era Drizzato Il camion Nel modo giusto Allora Qui giriamo a destra Ok E qui li andiamo a sinistra Con calma Con calma Ottimo E andiamo verso il nostro campo Con la paglia Ecco dovrebbe starla Presumo Che dici Mettiamo sotto pure questo O questa Sì questa Questa E andiamo A prendere Guardate che bel trattorino Uh Sì sì però Facciamo in modo che Rimaniamo su strada Ovviamente Eccolo qui Andiamo dritti per dritti Via Ok E andiamo a raccogliere Dai In teoria già Sto raccogliendo No Sì però vorrei Mettermi un po' più dritto Gino Dai facciamo le cose fatte Anche benino No dai Ok Allora Mentre facciamo questo Signori Allora Per quanto riguarda Varie produzioni Cavoli varie Tutto quanto Ho scaricato Una mod Che Di una Produzione per la maionese Ok Cosa che metterò Anche su consiglio Del nostro amico Max Ok Che mi da tanti consigli Io lo ringrazio E Poi ho anche Scaricato delle mod Di serre Ok Serre un po' più grandi Fanno un po' più prodotti Fanno più prodotti Ma anche a livello Quantitativi Ok Quindi Andremo poi Eventualmente Anche a mettere quelle Faremo una bella Farm nostra E Quanto riguarda il riso Allora ovviamente Lo andremo a coltivare Ancora il riso Poi vediamo ragazzi Vale la pena Poi coltivarlo Vale la pena Farlo Sono tutte cose Che dovremmo vedere Ok Vediamo un attimo Ok Ok Allora andiamo avanti Con la paglia Andiamo avanti Con la paglia Così vediamo Un attimino Ok Allora abbiamo Quasi finito Qui di raccogliere La nostra paglia Allora l'ho dovuta Scaricare Non Si Se poi la raccogliamo È meglio Allora Non su un lessicatoio Quello che abbiamo In farm Perché non accetta La paglia Ok Quindi l'ho messa Nel silo Quello che abbiamo messo Lì dove abbiamo Messo I pollai Ok Quindi L'ho scaricata lì Il primo carico Adesso Finiamo di Raccogliere Questa paglia E eventualmente Vogliamo già mettere Una serra Io direi di sì Cominciamo a mettere Una serra Poi vediamo un attino Dove Vediamo un attino Dove metterle Intanto qui I soldi Tranquillamente Si fanno Che insomma Non è una cosa Stupenda Però insomma Dai Va bene così È comodo Il fatto che Facciamo i soldi Senza fare un cazzo Quello sicuro Però da come È stato detto Come mi ha detto Anche Max Ho sentito anche Altre persone Sembra che Noi Ci diciamo L'acqua È nostra Ok Quindi Il discorso dell'acqua Sia tutto nostro Quindi Noi vendiamo L'acqua ai vicini Che ce la pagano Quindi andiamo A guadagnare soldi Così a buffo Ok Però va bene Insomma Non è un problema Ok Ok Andiamo a scaricare Sta paglia Raccolta tutta Così Siamo a posto Se magari Poi alziamo Questo Non ci interessa Andiamo anche Un po' più veloci Passiamo di qua Andiamo di là Ok E la scarichiamo Qui nel nostro Silos che abbiamo messo Ok Questo Praticamente Accetta tutto Quindi non è un problema Ok Andiamo a scaricare Così Oh Dove vai Dove vai Eccola qui Magari Siamo un po' più avanti Siamo un po' più Precisi Perfetto Allora Cassone Da carico Io direi Comunque Andarlo a lasciare Qui Sotto il cavannone Che tanto La roba Dovremmo Eventualmente Scaricarla Qua Quindi Qualcosa Andiamo anche A lasciare Qui Ok Qui abbiamo Il nostro Buon Fiat Che abbiamo Preso Nello scorso Grandplay Bellissimo No Almeno Un trattore italiano Insomma Ho visto una mappa italiana Questo è comodo qui Insomma Per le nostre Galline Eventualmente Mucche Ok Ok Allora Fatto ciò Fatto ciò Signori Vi voglio far vedere Anche un attimino I Le serre Che ho messo Ovviamente Anche capendo Dove andarla a mettere Ok Io volevo vedere Prima Una cosa Una cosetta Ok Allora Io questi cabannoni qua Lo posso vendere Questo E anche questo Allora Noi in cabannone Basta Per il discorso Nostro No Cioè Io posso tenermi Eventualmente Questo lo posso vendere Sì Perché Perché io volevo Liberarmi Questo spazio qui E qui farmi Le serre Ok Quindi avere Qui Le nostre Il nostro Pollai I nostri Pollai Questo Pure potrei vendere Perché non ci teniamo uno Ah no Questo è un tutt'uno No 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 Oh si No aspettate Scusate Mi sembra che posso vendere Anche solo uno Sì vabbè Vediamo Vediamo Perché se io vendo Questo Mi seleziona Solo questo Se vendo Questo Mi seleziona Solo questo Per 40 M Noi basta un silo Di questi Dai Allora facciamo così Vediamo un po' Se al massimo Ci rimettiamo Se mi vende tutto No scusa Scusa Ok No infatti Ce n'ha tolto uno Solo Perfetto E andiamo a venderci Anche questo In modo Guardate qui adesso Lo spazio che abbiamo Oh Questo è tutto lo spazio Che abbiamo L'erbetta ce la lascerei Eventualmente Eh Poi dopo vediamo Un attimo E qui è tutto Spazio per le serre Ok Allora Adesso 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 Vediamo un attimino Le serre Perché Ho messo alcune mod E voglio vedere Un attimino Come sono Allora Questi vabbè Sono alcune mod Che già avevo messo Adesso Questa è una Ok Che questa ci produce Ovviamente Fragole Lattughe E pomodori Questa vedete Invece Oltre Lattuga Fragole E pomodori Anche tante altre cose Come L'olive Uva Cotone E patate Barbarbietole Questo mi interessa Perché avendo anche L'olive Noi ci possiamo fare L'olio Ok E Io avevo messo Come vi avevo detto Anche come fabbrica Avevo messo La mod Se ora Andiamo a trovare Questo lavora La paglia Questa della maionese Vedete Che comunque Ci serve olio Vedete O di girassoli Di olive O di quant'altro Di uova E facciamo la maionese Quindi in prospettiva Di questa fabbrica Ok Io andrei proprio Mettere Questa serra Qui No Dove era Dove era Allora Dove era Questa qui Ok Andrei proprio Mettere questa serra Qui Che tra l'altro Non è nemmeno Immensa Quindi possiamo Tranquillamente Andarla a mettere Allora trigger Allora Vediamo un po' Qui c'è per Caricare E lì Per scaricare Ok Quindi andrei a metterla No Non così ovviamente No Ok Ok Si c'è ragione Allora Scusate Allora Io andrei a metterla Così E dov'è che Spona Ok Vedete Spona di qua Quindi per noi Secondo me È perfetto Andarla a mettere così Forse no Perché Aspettate Voglio Ma come si sovrappone Non rompe le scatole Ok Perfetto Qui si sovrappone La vorrei mettere così Una E perché no Ne mettiamo anche due Noi Che dite Due belle Di queste serre Si sovrappone Dove non si sa E così Si Vai Perfetto Due belle serre così Eh Che dite Che ve ne pare Eh Allora andiamo a vedere Se si apriste porte E qua Come si aprono Ok Le abbiamo aperte Perché andiamo anche A impostare Quale produzione Fare Adesso Vedete Allora Muli Che vuol dire mulino Per grano Non ci interessa Guardate qua Ah perché No possibile Scusate Ah ok Scusa Olive 200 di acqua 200 di acqua 100 di quello lì 50 di questo 50 di quello Mazzola roba Docca a mettere Acqua Semi Fertilizzante Erbicida Ok E questo qua Mi interessa A me Ah Ok Ma mi fa tutto Cioè Ah no 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 Ovviamente Devo attivare Perfetto Allora Vogliamo fare Olive Poi ovviamente Le olive Vanno trasformate In olio Però noi Attiviamo le olive Ok E per ora Solo questo Capiamo un attimino Ragazzi Qua c'è da mettere Acqua Semi Fertilizzante Ed erbicida Tutta roba Che dobbiamo comprare L'acqua no L'acqua L'acqua no E l'acqua Signori miei Ok Io direi Ma chi ha chiuso Questa Forse Sono entrato qua Forse Allora L'acqua Visto che ne abbiamo Bisogno Eventualmente Io direi Di andare a mettere L'irrigatore Quello che ho io Ora certo Andiamo a trovare Allora Attrezzi Produzione Vediamo un po' Se sta qui Eh Vallo a trovare Ora Allora Andiamo a cercare Un attimo Forse su animali Ma guarda è strano Altro No Decorazioni Credo sia una decorazione Vediamo un po' Infatti qua Non c'è niente Edifici Silos Vediamo un po' Se sta qui No Ma non credo nemmeno Sia ampliamento Silos Container Eccolo qua Sì sì Madonna Dove cazzo Mi hanno messo su Container Vabbè Allora Questo praticamente È un Cosetto dell'acqua Praticamente Ok Allora Mettiamola su una posizione Che sia comoda Per dire Potrei anche Eventualmente Metterla qui Qui vicino A Magari Ci giriamo Ok La vorrei mettere Qui in modo che Noi arriviamo Ok E andiamo A caricare L'acqua Pure qua All'angolo Ok Perfetto E questo L'abbiamo messo qua Quindi per quanto riguarda L'acqua Abbiamo messo quello Ce l'abbiamo Semi Fertilizzante Ed erbicida Tutta roba Dobbiamo comprare Però come Glielo portiamo In Non posso Comprarlo Eventualmente Che io volevo Quasi comprarlo L'acqua però Non si può comprare Vedete Allora Niente L'acqua Gliela mettiamo I semi Glieli mettiamo Non c'è problema Li andiamo a comprare Anzi Facciamo così No Ho sbagliato Allora Vediamo un attimino Allora Però In pallet Come glielo Qui che cosa Possiamo prendere Fertilizzante Liquido Fertilizzante Liquido L'erbicida Erbicida E poi che fertilizzante Dobbiamo mettere Liquido O solido Penso liquido Vediamo un po' Un attimino Scusate Ma qui C'è da ragionarci E qui è una cosa importante Che abbiamo Le nostre olive Vediamo un po' Allora Io penso Fertilizzante Semi Eccolo qui Erbicida Quello abbiamo visto Fertilizzante Qui mi da Tipo in sacchi Vediamo un attimino Però non credo Pallet Allora Vediamo un po' Però nemmeno sacchi No scusate No scusate Fertilizzante Soido Poi c'è da capire Se è fertilizzante Soido Liquido Ma io penso Liquido Eh Allora Liquido Lo prendiamo Qui Fertilizzante Erbicida Ok E basta E poi abbiamo I semi Erbicida E i semi I semi Vabbè Li prendiamo Qua Non è un problema Sempre qui Vero Allora 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 Sacco di pallet Pallet Però qui non abbiamo Il pallet di semi Non penso Vero No Scatola Scatola Vabbè Questo non ci interessa No Allora Qui I semi Dove ce li abbiamo Allora Forse questi qua Mi sa che sono i semi Eccolo qua Semi Calcivio Frumento Fertilizzante Ma che non ci interessa E i semi Allora facciamo così Cominciamo A prendere Due di semi Quanto è Quanta roba è Da mille Quindi lo facciamo Quattro Ok E abbiamo preso Quattro di questi Poi Abbiamo detto Prendiamo Il fertilizzante Liquido Scusate Che differenza c'è Tra questa e questa Nessuna Una della corteva Una della elma Vabbè Noi prendiamo questa Che era la prima E ne prendiamo qua Ah Una volta Posso prendere qua Facciamo due E per ora due Dai E Due di erbicida Ok E due di erbicida Così almeno Ce l'abbiamo E Semi Fertilizzante Erbicida L'acqua L'acqua ce l'abbiamo Lì Ok E Così almeno Andremo ad avviare Anche queste fabbriche Ok Cioè queste fabbriche Questa Queste due Belle Serre Ok Saranno utili Sia per l'olio Sia per l'olio Sia per l'olive Per farci l'olio Ma anche per gli altri prodotti E non è che per forza Solo l'olio Dobbiamo fare Ok Allora signori Io però direi Visto che è andato lungo Un po' il video Per ora ci lasciamo così Ok Abbiamo Insomma Fatto qualche lavoretto Oggi C'è ancora molto da fare Ok Comunque Io mi raccomando Vi invito sempre A iscrivervi al canale Attivare la campanella A modo da essere sempre aggiornati Ok Ciao ragazzi